Ciao a tutti, buongiorno a me dalla vostra amica, sì come ogni lunedì, play with me e così ne salate, così ne salate, sì, ODS, ho trovato a un euro le patatine di Stitch che andiamo a aprire dopo della Salati Preziosi questa è la settimana che va dal 29 al 4 e entriamo in giugno stanno finendo le scuole, che bello, che bello allora, decorazione, faccio vedere il paper tape, washi tape, tutto animaloso, pucceroloso con l'elefantino, il leoncino, il coccodrillo, il cangurino, la ranetta, un po' gli animaletti perché è tutta animaletti, vi faccio vedere dopo gli sticker adesso, dopo facciamo anche i saluti, logicamente penna, stabilo, arancio, da far pandan con il leoncino che c'è sul washi tape e abbiamo detto, scusate, mi stavo già dimenticando, 29 lunedì ok 30 martedì lavoro, lavoro 31 mercoledì poi 1 giovedì 2 venerdì lavoro, anche se il 2 giugno è il lavoro 3 sabato e 4 domenica che è il mio sperato meritato relax e adesso andiamo a scriverlo a scriverlo, no ad attaccare la scritta che è questa andiamo che è vicino così allora può essere di taglia di tanto tempo fa andiamo a prendere la R e la prendiamo questa qua tutta arcobaleno voilà aspettate che c'è questo pizzettino che non lo voglio voglio il buchetto così ok poi la E direi di prenderla argentata per spezzare un po' la L la prendiamo questa H I no scusate L questa poi la A la prendiamo verde e la X chiudiamo con questa qua tutta olografica argentata ecco qua sperato meritato relax adesso aspettate che li metto via e andiamo ad attaccare i veri proprio sticca sticca tutti animalosi che non mi ricordo se li ho presi dal Dio Lidl questi non mi ricordo tutti con gli animaletti andiamo ad aprirli ok e sono due fogli uno così e uno così adesso andiamo ad attaccare prima di tutto la giraffona che bellissima 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 la giraffotta la mettiamo qua così poi l'ipopotamone cioè l'anica la mettiamo qua che carino poi c'è anche il tigrotto qua c'è un leoncino lo mettiamo qua poi l'elefantino lo mettiamo qui e poi c'è anche la scimietta che carina vediamo un coccodrillo mettiamo qua il coccodrillo il coccodrillo lo mettiamo qua anche se sembra che mangia la giraffa ma non lo fa perché questo è un coccodrillo buono vediamo un attimino poi cosa possiamo mettere il rinoceronte rosa lo mettiamo qua e poi mettiamo qualche zampettina qua vicino al leone poi una fogliolina qua un'altra zampettina qua vicino al tigrotto poi un'altra fogliolina fogliolina qua vicino alla scimietta e poi vediamo qua ci mette una bella piantina con un pappagallino così poi vediamo qua cosa c'è di carino c'è spuglietto ce lo mettiamo qua tacchete un altro c'è spuglietto lo mettiamo qua l'elefantino e poi facciamo ancora una fogliolina qua e poi direi basta è tutta animalosa è carina tutta pucciosa gli animaletti super kawaii adesso la inseriamo nella agenda guardate che mi è caduto tutto qua come al solito faccio un disastro vediamo qua che c'è il divisorio di giugno perché ormai questa settimana va in giugno mettiamo dentro la nostra decorazione e andiamo a scrivere video agenda più saluti su lunedì non perdetevi iscrivetevi al canale tipate la campanellina per seguire anche gli altri video video ok voilà adesso facciamo i saluti poi apriamo le patatone le patatone allora devo salutare ok Mary96 ciao Emily ciao Dani ciao Gavino ciao Stefano Noero ciao Elisa Santoro ciao Elisa Miseroli ciao Lina De Rosa ciao Sissi Clietta ciao Francesca Duca ciao Anita Sofìa Mirian ciao Giulia Meteoli ciao Giada Boschetti ciao Marina Schenone ciao Antonia D'Achille ciao l'avevo già detto non mi ricordo forse sì ciao Sara e ciao Alessia ciao Eleonora e Tiberio ciao e Lucia Battistolo o Battistolo spero di aver detto giusto ciao Lucia scusami e qua mettiamo così questa decorazione e adesso andiamo a aprire le patatine allora sono al mai senza glutine con olio di girassone Disney Stitch puoi trovare una fantastica sorpresa che non c'è scritto cosa sono fantastica sorpresa basta andiamo ad aprire il primo e vediamo come sono queste patatine sono le palline che buone queste palline al mai scusate ma devo mangiare due o tre prima sorpresina vediamo piatta piatta saranno calamite vediamo c'è Stitch allora sta prendendo la forbice e vediamo no no non dimmi che sono tatuaggi però calamite posso accettarli tatuaggi no e vediamo quanti uno due tre e quattro questo cartoncino e vediamo cosa sono set adesivi ah allora sticker mi sta bene allora set adesivi attacca e stacca bello vediamo sono ritagliati staccano così oh che carino allora c'è sempre lui che bello bellissimo Stitch e sono questi quattro speriamo di trovarli diversi e non trovare i doppioni nell'altro pacchetto andiamo a vedere andiamo ad aprire così mangio le patatine anche di qua allora scusatemi ma sono buonissime la confezione si tende guarda quanto è bello lui mi ricordo quando ho visto il cartone che bello scusatemi mangio ancora una ecco qua la sorpresina vediamo se ce n'è un'altra magari si sa mai no neanche di qua no e la nic avrà la fortuna di trovarli doppi sicuramente si vediamo oh che carini dai gli stickerini sono belli forse non sono doppi forse invece si e ti pareva o sono tutti così fatemi sapere nei commenti ah doppi ma ci avrei scommesso guarda vinco se scommetto quando trovo le cose doppie ecco guarda due 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 però fa niente dai che carini li mettiamo in agenda ok dai sapete che trovate gli stickerini sono anche carini piuttosto che i tatuaggi poi vabbè magari i bambini giustamente il tatuaggino se lo fanno adesso che viene l'estate gli piace avere il Stitch se è uno dei suoi personaggi che gli piace dei cartoni niente daglio comunque lo trovate l'Odi Store a un euro io dopo non so se ci sono anche da altre parti niente buona settimana a tutti ci vediamo lunedì in settimana con gli altri video mi raccomando non mancate buona settimana a tutti buon inizio giugno a tutti ciao poi ci vediamo in prossimo video ciao ciao ciao